ciao amici buongiorno a tutti ora ci vediamo questo piccolo video di una ricetta del mio amico davide zampelli uno chef del 38 adige bene sì anche se siamo dentro casa niente parrucchiere però mi sono toccata come se dovessi uscire ma queste naturalmente sono piccolezze in confronto a quello che sta succedendo in tutto il mondo quindi resistiamo rimaniamo più che sia possibile a casa per non far diffondere questo virus ci stiamo riuscendo stiamo quasi entrando nella fase 2 quasi manca ancora un po di tempo quindi cerchiamo di rispettare tutte le decole ok andiamo a vedere ora questa focaccia senza lievito senza il mio amato lievito madre seguitemi eccoci qua seguiamo questa questa ricettina questa focaccia senza lievito qui ho preparato gli ingredienti soltanto la farina l'acqua l'olio e il sale niente di più questa volta non userò il mio amato lievito madre come ho detto all'inizio questa ricetta di davide zampelli uno chef alto adesino anzi trentino trentino alto adige che seguo da un po di tempo molto bravo poi vi metto il link del suo canale e del suo blog ok ho messo come avete visto in sequenza l'acqua il sale e l'olio e mescolo così direttamente nella ciotola con una spadola un cucchiaio come volete e poi giro tutto sul piano di lavoro ecco qua lo lavoro un pochino ed ora uso un po di semola rimacinata però se non ce l'avete potete mettere direttamente la farina che avete usato lo giro un pochino scusatemi il cerottino sul dito intanto capita che mi spunto un dito lo lascio riposare dieci minuti ci metto la pellicola e aspetto dieci minuti nel frattempo ho acceso il forno a 250 gradi al massimo io ho messo ventilato anche se la ricetta di davide dice statico però ognuno poi si regola con il proprio forno ho diviso in due l'impasto ed ora vado a stendere la prima la prima sfoglia io rispetto alla ricetta originale ho fatto mezza dose però se volete raddoppiate invece di 250 di farina ne mettete 500 e raddoppiate anche gli altri ingredienti allargo allargo così con il matterello perché deve venire abbastanza sottile questa sfoglia mi aiuto anche con la farina ma non è che appiccica perché c'è l'olio che lo rende abbastanza elastico spiano così per benino cerco di fare di farlo assomigliare ad un rettangolo diciamo e poi con le mani così con i pugni cerco 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 di allargarlo di renderlo più sottile ci provo come si fa del resto con le pizze si sta creando qualche buchino però poi lo chiudo ok e vediamo se riesco a fare questa focaccia come l'ha fatta Davide io procedo così metto su un foglio di carta forno e sulla pala in modo che poi lo faccio scivolare direttamente nella teglia calda però se volete potete metterlo direttamente sulla teglia fredda l'importante è che il forno sia altissimo 250 va bene ecco qua adesso adesso vado a mettere l'olio ho preparato il rosmarino l'olio d'oliva il nostro olio d'oliva il sale che ho tritato con un mortaio vedete l'ho reso leggermente più fine perché non ci va né il sale fino né il sale grosso quindi una via di mezzo spennello per benino scusatemi la voce allora spennello bene con l'olio ok e metto un po' di rosmarino poi qui va gusti naturalmente potete anche mettere qualche altra cosa se non volete il rosmarino non lo mettete però io direi che ci sta bene direi che è perfetta questa ricetta così come l'ha fatta Davide ecco qua adesso vado a far scivolare dentro il forno con la pala però non posso inquadrare perché da sola non riesco a farvi vedere bene vi faccio vedere dopo andiamo andiamo ad infornare ecco qua ho fatto scivolare nel frattempo che inizia nel frattempo intanto che si cuoce mi preparo già l'altra sfoglia però controllo sempre perché non ci vuole molto all'incirca 10-12 minuti quindi vado a vedere vediamo se riesco vedete si stanno già alzando le bolle si creano subito le bolle ma il forno deve essere proprio almeno a 250 ok mi allargo poi ci metto l'olio intanto vado a controllare eccolo qua vediamo oh scusate si è appannato si è appannata la telecamera del cellulare eccolo qua io direi che è pronto per non farlo bruciacchiare troppo sopra possiamo mettere un po' di carta argentata controllo sotto e si io direi che va bene così un altro attimo e lo tiro fuori ok e vado con l'altra sfoglia guardate che bolle adesso che stanno uscendo bellissima c'è già un profumino bene 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 mi piace questa focaccia che poi questa fa mangiata anche come tipo antipastino con un po' di prosciutto con quello che volete è talmente sottile e leggera adesso vediamo la prima vediamo com'è venuta eh sì bella croccante sì sì ok bene bene anche la seconda è cotta eccola qua bellissima anche questa bene amici io vi ringrazio della visione e naturalmente un grazie a Davide del Zampelli per avermi suggerito questa ricetta e con voi ci sentiamo presto mi raccomando restate a casa stiamo uscendo piano piano da questo incubo cerchiamo di resistere e così torneremo a fare le cose piacevoli che abbiamo sempre fatto ciao a tutti buona giornata ciao 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 ciao